Ho pensato, dichiara Monia Monzo, consigliere comunale con delega alle politiche sociali, politiche giovanili e pari opportunità, di promuovere il carrello solidale per alleggerire un po' il peso in queste giornate difficili. Quest'anno già il Natale non sarà come gli altri anni. Volevamo a maggior ragione abbattere la tristezza di coloro che si trovano in difficoltà. L'iniziativa solidale è stata subito appoggiata dal sindaco Eros Lamaida e da tutti i consiglieri comunali. Fondamentale è stata l'adesione dei quattro supermercati presenti nel comune di Castelnuovo-Cilento che hanno aderito all'iniziativa. Vogliamo ringraziarli tutti, sottolinea il consigliere comunale, c'è stata una forte collaborazione ed è importante perché se si fa rete sul territorio si possono ottenere buoni risultati. Purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19, si legge dal profilo Facebook del comune, i numeri sono in aumento. Ecco perché chiediamo la collaborazione di tutti coloro che, con un gesto di solidarietà, possono contribuire a sostenere chi ne ha più bisogno. Uniti si vince sempre. Basta lasciare in un carrello dedicato all'iniziativa, che troverete nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa, alimenti possibilmente a lunga conservazione che provvederemo a destinare a famiglie del nostro comune che ne hanno necessità. In questi giorni anche la città di Agropoli ha dato il via all'iniziativa Riempi il carrello di solidarietà promossa dalla Croce Rossa italiana, Comitato di Agropoli e Cilento, a cui hanno aderito la Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani. Fino al 20 dicembre, dalle 10 alle ore 12 e dalle 18 alle ore 20, sarà possibile donare generi di prima necessità presso la sede comunale dell'Associazione Sita in via Pio X e presso la sede della Croce Rossa in via Lombardia. Iniziative concrete realizzate nella convinzione che per fronteggiare un momento estremamente difficile per ognuno di noi, la solidarietà resta un valore fondamentale, un piccolo gesto da parte di tante persone può fare la differenza.